Buongiorno e benvenuti, qui a Alberti Music Place. Anche quest'anno vogliamo far arrivare agli italiani il messaggio della sicurezza stradale attraverso la musica e lo facciamo attraverso un contest lanciato con Radio Italia e chi ha fra gli altri giurati Fedez. Sono molto contento di essere stato scelto come giurato per questa iniziativa. In bocca al lupo a tutti e ci vediamo presto. Ciao! Abbiamo pensato di rivolgersi ai giovani, rapper e trapper. Vogliamo che ci aiutino a individuare il messaggio giusto per parlare ai giovani e a tutti coloro che guidano. L'idea è scrivete delle canzoni in senso positivo che abbiano questa dinamica. In modo che da un lato loro possano far conoscere il proprio talento e dall'altra ci aiutino appunto a rendere i comportamenti di guida più sicuri. Volevamo essere coinvolti perché per noi è una bella opportunità sia dal punto di vista professionale, quindi discografico, ma anche con il nostro lavoro, con la musica, trasmettere un messaggio così importante. Sarà un percorso sicuro, stradale ma anche musicale. Grazie mille!